salve a tutti i signori e bentornati sul mio canale io sono avido alchimista e anche questo martedì andiamo a parlare dell'impero dell'eclessidre il libro che è un po di settimane che stiamo affrontando che dalla critica è stato definito il trono di spade italiano oggi arriviamo al capitolo 13 e da qui in poi comincia l'azione quindi sedetevi con calma ascoltiamo insieme questo capitolo ovviamente letto dal me medesimo sottoscritto e ricordatevi che trovate i link per l'acquisto e i link utili per i contatti in generale qui in descrizione al video ci vediamo dopo la riproduzione buon ascolto ci hanno raccontato per millenni la storia che chitonis avrebbe ucciso roggius a tradimento falso chitonis ha vinto perché gli aesi come razza sono superiori ai rotili e su questo non c'è dubbio loro però ci credono questa fregnaccia di roggius e si sono alleati segretamente con i giganti per distruggersi per riprendere il potere e arricchirsi ancora di più sono già al potere gianna di lugiaia era una rotiglia quella zoccola i re sono tutti per metà almeno di sangue rotilio i rotili con i loro maledetti capelli rossi comandano il mondo avete sentito cos'è successo a porto profumato e a fredosi intervenne un terzo che si era avvicinato al banco del pesce dovremmo fare così anche noi gli altri due annuirono e quello si fece coraggio i rotili sono una razza inferiore i giganti sono bestie ma un rumore sordo come un rimbombo in quel mattino così chiaro interruppe quella discettazione le centinaia di persone presenti nella piazza si ammutolirono di colpo per pochi istanti sarà stata una campana che ha suonato pensarono ma nemmeno il tempo che il brusio da mercato riprendesse ed ecco che un nuovo colpo altrettanto cupo ruppe l'aria qualcuno cominciò a capire qualcosa forse un masso aveva colpito l'eso di bronzo toni il pescivendolo aveva sentito il secondo colpo particolarmente vicino al proprio banco che era uno di quelli proprio ai piedi dell'enorme statua rivolse lo sguardo verso l'eso a mezza altezza e vide una lunga striscia liquida colare in verticale lungo la superficie della statua come se la eso sanguinasse si voltò di nuovo sbigottito verso i suoi due clienti ma subito percepì alla sua sinistra proprio ai piedi della statua come se fosse caduto qualcosa come se la statua perdesse pezzi allora scrutò nuovamente in alto fino a dove poteva vedere con gli occhi ma la statua sembrava integra trascorsero solo pochi secondi prima che con la coda dell'occhio riuscisse a scorgere qualcosa all'altezza del basamento qualcosa di simile a un sasso infagottato si avvicinò rimosse un lembo di quello che sembrava essere un panno e inorridì toni il pescivendolo non riuscì a gridare come in un sogno dove si vorrebbe farlo ma non ci si riesce nell'orribile fagotto cosa c'era cosa stava vedendo un bambino un neonato toni riuscì a urlare ma solo nella sua mente di quello si doveva trattare aveva la testa fracassata anzi era tutto fracassato irriconoscibile finalmente il vecchio riuscì a gridare ma nessuno se ne accorse perché nel frattempo tutti avevano cominciato a gridare una pioggia di fagotti uno dopo l'altro si stava schiantando sulla piazza attorno alla eso e a mano a mano che gli esani si rendevano conto di cosa stessero usando per attaccarli urlavano terrorizzati fuggendo all'impazzata dal porto ancora non era possibile capire bene cosa stesse accadendo se fosse un attacco da dove venisse chi li stesse attaccando il solo fatto che li stessero bombardando con si fatti proiettili stava gettando tutti in un terrore surreale dalla sua prospettiva privilegiata del castello dei mechtide anche tirescia aveva notato qualcosa mentre aveva fatto sistemare leona di fronte alla luce della finestra per poter vedere meglio come le stava il vestito addosso ma cosa sta succedendo esclamò vedendo una piccola flotta in mare ormai non lontana dal porto nel frattempo in un'altra ala del castello un cavaliere saliva affannosamente le scale rosso in volto giunse di fronte alla porta della camera da letto di lord harris e per un secondo esitò a bussare siamo sotto attacco signore esclamò infine battendo alla porta senza troppi riguardi sorprendendo il lord a letto a intrattenersi con una delle sue amanti eric mechtide imprecò si sentì ghiacciare l'anima saltò in piedi all'indietro cosa chi ci sta attaccando non si poteva scorgere nessuno stendardo all'orizzonte chi avrebbe potuto attaccare esia dopo più di mezzo secolo di pace in tutta la zimania un attacco sembrava una cosa di quelle che si leggono solo nei libri di storia i profumatesi pensò per un secondo eris tra sé ma si rese conto che l'ipotesi non aveva senso esia è dalla parte opposta della vasazia e i profumatesi riuscivano a stento a difendere la propria città potrebbero essere i ribelli di fretos fu la seconda cosa che gli venne in mente la costa delle bania sulla quale sorge fretos è di rimpettaia di esia separata solo dal mare del croco ma si rese subito conto che il governo instauratosi a fretos non si era ancora organizzato e che prima di portare un conflitto dissennato in vasazia avrebbe fatto meglio a consolidare la propria posizione in ebania visto che il re bento safen per quanto debole prima o poi avrebbe inviato una spedizione punitiva per riprendersi la capitale e vendicare fratello cognata e nipoti eris non sapeva cosa pensare mentre affanosamente si rivestiva e saliva di corsa le scale fino alla torre più alta del castello d'altro canto porto profumato e fretos erano gli unici due focolai di guerra che avevano infranto la pace di oriam che regnava sovrana dall'inizio dell'era dei giochi raggiunto il punto più alto del castello eris mactide vide che effettivamente la piccola flotta che si stava avvicinando non recava bandiere né vessilli ma si limitava a catapultare sulla città una pioggia di non meglio identificati proiettili mediante catapulte presenti a bordo delle navi cosa accidenti stanno lanciando massi palle di fuoco cosa accidenti sono starnazzò il lord intanto la campana chiamava raccolta la popolazione dentro le mura del castello le navi esiane distanza nella baia erano state colte di sorpresa e date alle fiamme così come colte di sorpresa ormai erano i soldati della guardia cittadina il nemico stava guadagnando il porto e avrebbe avuto la strada spianata per saccheggiare la città orses mactide si affiancò al padre che guardava preoccupato la città in preda al nemico ma ancora non aveva capito questo nemico chi fosse eris trovava questo aspetto più seccante del fatto stesso di essere sotto attacco chi sono padre chi ci sta attaccando chiese il primo genito questi distorse per un attimo lo sguardo da esia ridotta ad improvviso a campo di battaglia e dimise il piglio superbo che lo contraddistingueva non lo so figlio non credo di averli mai visti prima rispose so però che a breve assederanno il castello qui va a finire male mio signore urlò un soldato solo sembra che il nemico siano si stanno avvicinando guardate voi stesso mio signore sono donne sentenziò con un unico fiotto di respiro eris stupito si sembrano sembrano donne padre ma chi sono per il creatore esclamò eris non pensavo che esistessero ancora le credevo ormai soltanto una storia poi si rivolse al figlio e i due cavalieri che si trovavano sulla torre al suo seguito orion kelis le combatté sulla coda e le sconfisse all'inizio del suo regno spiegò così mi raccontava mio nonno ma molti nemmeno ci credevano ritenevano che fosse solo una leggenda per tenere buono il popolo e i nobili ma padre chi sono sono le amazzoni figlio quel nome al giovane non diceva niente sono donne guerriere spiegò sono più spietate degli uomini quando combattono e se quel che si raccontava è vero quelle navi con le catapulte stanno lanciando eris smise di parlare preferì non completare la frase come se questo fosse sufficiente a scongiurare la verità mio signore della città dicono che stanno piovendo persone dal cielo non capisco signore dicono che stanno lanciando dei bambini dei neonati si si limitò a confermare l'aconico il lord è esattamente quello che fanno le amazzoni erano formidabili donne guerriere e la loro origine non era né remota né tanto meno leggendaria al contrario essa aveva una precisa data quella della pace di renvara l'anno in questione era l'88 pg nel contesto delle guerre tra esi e sidi che dall'invasione da parte di quest'ultimi nell'anno 1968 pg aveva insanguinato la zuimania la grande battaglia di revilla dell'anno precedente 89 pg si era conclusa con un sostanziale pareggio per cui gli stati aesi avevano riconquistato il controllo della maggior parte della vasazia ma i sidi erano ancora abbastanza forti e stabili da non permettere ai nemici di rigettarli completamente sull'isola delle bagna la loro storica roccaforte la soluzione diplomatica che fu trovata e chi diede forza e maggiore legittimazione al processo di fusione tra i due popoli di fatto già avvenuto nelle classi popolari fu quella di far sposare le figlie delle più importanti famiglie aristocratiche degli stati vasaziani e morganesi con i figli dei nobili sidi così decine di ragazze in età da marito delle più importanti casate aesie furono promesse in sposa agli esponenti della classe dirigente sidia la maggior parte di esse docili e l'autorità paterna obbedirono ma alcune si rifiutarono categoricamente mettendo in atto innumerevoli spedienti dalla fuga al suicidio all'omicidio al tradimento dello sposo subito dopo subito prima delle nozze o durante la notte di nozze stessa la cronaca di quegli anni fu profondamente segnata da queste vicende quel periodo fu chiamato il biennio delle spose ribelli se da un lato ispirò poeti e musicisti dall'altro rimase subito in pericolo il compromesso diplomatico che a fatica era stato trovato a rembara i sidi pretesero una punizione esemplare per quelle giovani fanciulle che avevano preferito in alcuni casi anche macchiarsi di delitti efferati pur di non maritarsi con loro al fine di blandire la lega sidia per l'affronto subito e non rendere vanno lo status quo di rembara ai governanti dei vari regni e città stato aesie non restò che condannare all'esilio quelle tra le loro figlie che si erano ribellate furono pertanto individuati alcuni villaggi semi disabitati ai piedi delle montagne azzurre nelle fredde regioni a cavallo tra la vasazia meridionale e la gianubia e lì furono deportate le spose ribelli così in quella zona della gimania dimenticata da tutti si vennero a creare piccole comunità di sole donne chiaramente destinate all'estinzione per una ragione se non altro puramente generazionale nell'eventualità che non ci avesse pensato il clima in ospitale tuttavia queste giovani per niente intimorite dalla punizione subita anzi offese a morte e rancorose verso i padri e i fratelli che prima le avevano vendute come bestiame e poi di fronte alla loro disobbedienza le avevano spedite ai confini del mondo cominciarono a organizzarsi in una comunità eleggendo le loro regine e covando sentimenti di vendetta nell'arco di pochi anni quel raccogliticcio gruppetto di giovani ragazze divenne un vero e proprio flagello per le terre limitrofe perché quelle che prima erano suavi fanciulle aristocratiche si erano trasformate in una banda di feroci saccheggiatrici e assassine spietate esordirono con scorribande nei pochi villaggi e nelle fattorie delle zone circostanti povere e semi disabitate in seguito le amazzoni cresciute di numero e in crudeltà minacciarono centri abitati più importanti e fin anche castelli che si pensavano inespugnabili per una banda improvvisata di ragazze guerriere il clamore destato dalla conquista del castello di rokysten nel sud della vasazia da parte delle amazzoni nell'anno 79 fece conoscere il nuovo pericolo ai quattro angoli della zimania la loro tecnica di aggressione era tanto semplice quanto disumana assaltavano villaggi e roccaforti saccheggiando distruggendo e facendo prigionieri gli abitanti maschi le donne invece le risparmiavano anche quando queste come spesso accadeva non sceglievano di entrare a far parte del loro popolo a quel punto le amazzoni si accoppiavano con la forza con gli uomini rapiti per farsi mettere incinte e li tenevano in catene come loro schiavi sessuali in funzione esclusivamente riproduttiva riguardo al frutto di quelle unioni le figlie femmine venivano cresciute come amazzoni per quanto riguardava invece i bambini maschi una piccola parte era levata sempre in funzione riproduttiva ma i più venivano usati come proiettili per le micidiali catapulte con cui assaltavano i castelli e le città quello era il segreto della tecnica bellica del popolo delle amazzoni il terrore quando gli assediati in un castello si vedevano lanciare addosso oltre che pietre e frecce anche bambini appena nati erano colti da terrore e sgume intotali da sciogliere ogni volontà di difesa non vi è dubbio che di tutte le tecniche per incutere timore al nemico in battaglia quella delle amazzoni era la più annichilente che potesse esistere altro che tingersi la faccia o gridare scomposti quella delle amazzoni era la più annichilente che potesse esistere persino per i cavalieri i soldati zimani che pure erano abituati a secoli di guerre cruente dove non si era dato molto peso alla vita umana in realtà la sopravvivenza dei regni ipotentati che per millenni si erano succeduti in zimania non fu mai messa minimamente in pericolo dalle scorribande di queste feroci guerriere di gran lunga inferiori per numero ed equipaggiamento infatti le amazzoni lontane dal cuore pulsante della civiltà aesia altro non furono che un grosso problema esclusivamente locale per quelle zone della bassa vasazia e di una piccola parte della gianubia e anche quando esse si espansero sulla gelida e all'epoca disabitata costa sud occidentale che da loro prese il nome di costa delle amazzoni e imbastita una flotta cominciarono a devastare le coste più a nord con atti di pirateria per i regni dei maschi come loro li chiamavano non furono mai un pericolo mortale ma comunque una velenosa spina nel fianco da 79 pg al 35 e g i regni dei maschi combatterono tra più o meno impegnative ben 19 guerre contro le donne guerriere l'ultima guerra amazzonica fu combattuta nel 35 e g da oriam il grande che alla guida della flotta imperiale e con tutto dei giganti sconfisse le amazzoni a largo delle isole della coda l'imperatore le inseguì nella loro ritirata fino a raggiungere e mettere a ferro e fuoco i loro insediamenti sulla costa sud occidentale dopo quella disfatta le donne guerriere fecero perdere le proprie tracce rintanandosi nell'entroterra tra la cordigliera e le montagne azzurre di loro non si ebbe più notizia qualcuno teorizzò persino che definitivamente rintucciate dalla potenza imperiale esse si fossero estinte dato che le scorribande e i saccheggi erano la terrificante maniera con la quale riuscivano a perpetuare mostruosamente il proprio popolo evidentemente non era così non si erano estinte pensava eris mactide osservando dalla torre la sua città messa al sacco le donne guerriere ormai padrone di esia già si accingevano ad assaltare il castello in quegli anni di silenzio lungi dall'essersi estinte avevano rafforzato la flotta le loro navi riuscivano a sostenere la loro potenza di atroce fuoco umano mediante argani dall'elevata capacità di gittata eris si vide ufficialmente perso non appena si trovò di fronte il primo neonato sfracellato sul muro del torione non ebbe che il pensiero per i propri figli i suoi eredi orses il suo maggiore era lì al suo fianco e poteva leggere il terrore negli occhi il lord sapeva qual era il destino degli sconfitti il lord sapeva qual era il destino degli sconfitti catturati vivi dalle amazzoni laurent era mallon al servizio del reggente almeno lui era al sicuro e sarebbe stato lui a perpetuare la casata e a vendicarne l'onore poi pensò a leona per un attimo vide davanti a sé come una premonizione alcuni suoi figli e nipoti concepiti con la forza che venivano schizzati e spappolati contro le mura di qualche città poi gli parve di vedere la sua dolce leona che si univa a quelle donne selvagge e la cosa gli provocò un cuonato di vomito violento improvviso si appoggiò come potè aggrappandosi con una mano al lato interno di uno dei merli mentre un fiotto caldo e schifoso gli saliva amaro su per la gola orses fece per sostenere il padre ma quello lo respinse lord mctide rimase per alcuni secondi in ginocchio per terra guardando il risultato giallo verdastro del proprio stomaco gli parve di aver rimesso anche il fegato stesso e forse proprio per questo lo osservava come se fosse un auspice che cercava di scoprire il destino dalle viscere di un animale eris si pulì la bocca con una manica e poi senza rialzarsi si rivolse al figlio a bassa voce va prendi tua madre tua sorella e fuggite fuggite loro sono della torre del gallo da lì tramite il passaggio segreto dovreste riuscire a mettervi in salvo oris protestò non sarebbe fuggito avrebbe difeso il castello assediato va è un ordine urlò eris non te lo dico come padre te lo ordino come tuo signore come signore di esia fino a che sono vivo comando io va porta in salvo la nostra casata il giovane frastornato ubbidi e destreggiandosi tra i dardi e i terrificanti proiettili umani guardò rapido la torre del gallo nelle stanze delle donne orses trovò la madre e la sorella terrorizzate in mezzo alle ancelle che piangevano e pregavano sono qui per portarvi in salvo tramite il passaggio segreto lady provenza si affacciò dalla finestra che dava sul cortile interno del castello e vide che le amazzoni erano già penetrate e ingaggiavano duelli corpo a corpo con i cavalieri mectide li stavano trucidando non c'è più tempo per fuggire sentenziò grave il lord tuo padre ha detto che sono le amazzoni vero il ragazzo a noi ti rescia dove è il vestito nuovo di leona domandò la lady le amazzoni fatta strage dei soldati mectide sia nel cortile che all'interno del castello incedettero con furia negli appartamenti della torre del gallo io toria in nome di halo regina del popolo delle amazzoni prendo possesso del vostro castello mi lady una di quelle donne guerriere si rivolse a provenza prenderemo vivi quanti più maschi possibili quanto a voi mia signora alle vostre due figlie alle vostre serve domando a nome della mia regina se volete unirvi a noi provenza si rese conto con molto pragmatismo che non restava che mettersi in ginocchio io provenza della casa bianca mela imploro per mio conto e per conto delle mie due figlie qui presenti leona e orsescia di casa mectide la clemenza del vostro popolo affinché ci lasciate libere le mie serve faranno ognuna ciò che desidera unirsi a voi o seguirmi in esilio cosa ne pensate di questo capitolo parecchio diverso rispetto agli altri qui iniziamo proprio a infittirci nella trama ovviamente non lascio trappelare chissà quante informazioni perché giustamente serve per stimolare la vostra curiosità magari per andare ad acquistare il libro o eventualmente ascoltare l'audiolibro un giorno che dovesse uscire quindi giustamente non andiamo a capire in toto quello che avviene in questo universo però c'è già un po più di attività c'è già un po più di violenza qualche scena un pochettino più attiva quindi delle battaglie e li amazzoni signori li amazzoni sono una figata secondo me sono state rappresentate secondo me in maniera divina certo che lanciare dei neonati al posto delle palle di certo che lanciare dei neonati al posto della roccia sulle città è una tattica molto efficace sicuramente per spaventare i nostri nemici quindi sì io dico che questo capitolo ha decisamente stimolato la mia curiosità ma proprio dal primo istante quindi andiamo a scoprire i prossimi capitoli questa settimana dovrei far uscire un altro capitolo direttamente dato che ci avviciniamo a natale così infittisco un po' gli appuntamenti e niente mi raccomando seguitemi sia qui che su instagram seguitemi su tutti quanti i miei canali social su telegram eccetera lasciate mi piace mettete un commento o quello che ne pensate qui sotto iscrivetevi al canale e andate a controllare l'impero delle presidere di mario attilieni il libro che vi consiglio di acquistare preventivamente è una trilogia quindi andrete a scoprire anche il resto della storia almeno le highlights nelle prossime puntate va bene signori un saluto ci vediamo nel fine settimana e giovedì con i capitoli finali del trono di spade ciao a tutti un abbraccio ciao a tutti un abbraccio ciao a tutti un abbraccio